Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere alcuni dei consigli di Simon Sinek che vi aiuteranno a migliorare esponenzialmente la qualità della vostra vita. Sinek è un famoso conferenziere autore di best seller che aiuta grandi aziende a migliorare le loro strategie di leadership e marketing. Ha lavorato per aziende come Google, Apple, eccetera ed è molto attivo anche su YouTube. Cominciamo a vedere alcuni dei suoi principi del successo. Il messaggio deve essere più grande del messaggero. Se il messaggio è più piccolo del messaggero, allora morirà insieme a lui. Se è più grande, continuerà a vivere in eterno. Il tuo messaggio deve essere semplice, comprensibile e ripetibile. Se le persone capiscono il tuo messaggio, lo potranno ripetere anche se tu non sei lì con loro. Quando vi esprimete, cercate di farlo in modo talmente semplice da renderlo facilmente comprensibile per tutti. L'obiettivo di qualsiasi messaggio è quello di essere capito da tutti. Essere disposti a fare sacrifici Per le persone che hanno una causa, un obiettivo importante, un forte desiderio da realizzare, non esistono le notti e i weekend. Sinek parla di come passasse tutto il tempo a scrivere i suoi libri, compromettendo tutte le sue relazioni, solo per dedicarsi anima e corpo a quei libri. Questo fu il prezzo da pagare per quei best-seller e Sinek dice di non essersi pentito perché fin da subito prese la decisione di pagare qualsiasi prezzo per raggiungere il suo obiettivo. Se volete qualcosa con tutto il cuore, non dovete fare compromessi, dovete vivere per quell'obiettivo. Aiutarsi a vicenda Sinek fa anche un discorso antropologico, sostenendo che per la maggior parte della nostra esistenza sulla Terra, oltre 50.000 anni, la maggior parte di questo tempo abbiamo vissuto in comunità di circa 150 persone, dove ci siamo presi cura l'uno dell'altro in base alle capacità che ognuno aveva. Alcuni cacciavano, altri cucinavano, altri si prendevano cura dei bambini e questo ha contribuito alla nostra sopravvivenza. Negli ultimi secoli le cose sono sfortunatamente cambiate perché le persone sono diventate più egoiste. Le imprese puntano ad ostacolare le relazioni tra le persone per mantenere il controllo del tutto, mettendo ad esempio i bonus per le vendite. In questo caso le persone sono incentivate a non aiutarsi a vicenda in modo da accaparrarsi più bonus possibili. Questo però crea insoddisfazione e malessere nella società. Abbi fiducia in te stesso ma non pensare di essere migliore degli altri. Bisogna avere umiltà. Avere umiltà significa essere sempre disposto e interessato ad ascoltare le idee degli altri, a prescindere dal ruolo che hai. Puoi essere anche il CEO di un'azienda. Ascoltare le idee non significa che stai cadendo in basso o che stai perdendo autorità. Tutti i grandi leader ascoltano tutte le idee perché queste idee potrebbero veramente portarti benefici che andrebbero successivamente a migliorare non solo la tua posizione finanziaria ma anche quella da leader perché tutti diranno con lui mi sento a mio agio perché è uno che ascolta tutti, lo voglio seguire. Se non ascolti nessuno le persone rispetteranno il tuo ruolo ma non te come persona. La fiducia in se stessi non si costruisce da dentro. Secondo Sinek le persone sbagliano a considerare la fiducia in se stessi come qualcosa di interno. Sono le persone attorno a noi che ci aiutano a nutrirla dicendoci ho fiducia in te, ce la farai, a prescindere da come andrà a finire sarò sempre al tuo fianco. Sono queste le frasi che aiutano ad incrementare la fiducia in se stessi. Se volete migliorare in questo dovete cominciare ad aiutare le persone intorno a voi ad aumentare la loro autostima e dopo loro vi aiuteranno a migliorare la vostra. È un processo di reciprocità. Lui parla di un esperimento molto interessante. La sua migliore amica stava avendo difficoltà al lavoro, nelle relazioni, non aveva fiducia in se stessa. Lui cominciò ad assisterla, a farle da coach, ebbe grandi risultati le poche ore dopo queste sedute ma appena finita la lezione, quindi qualche ora dopo, ritornavano gli stessi problemi. Allora lui cambiò approccio. Andò da lei e le disse che lui aveva bisogno del suo aiuto per migliorare la sua autofiducia. Lei organizzò un programma per lui e aiutandolo cominciò a risolvere anche il suo problema. Se volete quindi migliorare la vostra fiducia in voi stessi, aiutate qualcun altro a migliorare la sua fiducia perché se volete sconfiggere le vostre paure dovete aiutare qualcun altro a sconfiggerle. Se una persona è abbastanza capace da aiutare una persona a risolvere un determinato problema sarà capace di risolvere lo stesso problema anche per se stesso. Pensa alla rivalità ma non alla competizione. Anche questo è un aspetto molto importante. La maggior parte delle persone pensa in termini di competizione. Cosa succede in questo caso? Quando pensi ad un competitor pensi subito a batterlo, ad annientarlo. Se il competitor lavora nel tuo team e ottiene un aumento tu diventi geloso, cominci ad odiarlo. Quando pensi alla rivalità stai pensando all'infinito. I rivali ci saranno sempre. Non pensiamo a batterli. Loro hanno il loro mercato, noi il nostro. Possiamo coesistere. Possiamo addirittura cooperare. Prendiamo ad esempio Amazon e DHL. Amazon può spedire i propri pacchi attraverso i propri postini ma spesso lo fa anche con DHL. Perché? Perché sono rivali. Guadagnano entrambi. Coesistono. Entrambi ottengono benefici. Entrambi assumono e pagano dipendenti. Mantengono famiglie. Perché distruggere? Perché creare danni? Far soffrire gli altri quando puoi pensare ad aumentare il tuo benessere grazie alla tua cooperazione con gli altri. Se pensi ad un competitor, penserai a come distruggerlo. Se pensi ad un rivale, penserai a come studiare le cose che a lui riescono meglio per migliorare i tuoi numeri. Se distruggi la concorrenza e hai gli stessi numeri, non hai ottenuto alcun beneficio. Dedica la tua vita ad una visione del mondo che non potrai mai realizzare ma che sarai disposto a morire per realizzarla. Questo è qualcosa di molto forte ma allo stesso tempo generoso perché ti porta a pensare non a come fai le cose che fai ma perché le fai. Ti porta a pensare ai tuoi valori, ti porta a pensare in grande e a batterti per una causa che è più grande di te. Questi erano i consigli di Sinek per cambiare il proprio futuro. Si tratta di consigli pratici e semplici che ogni persona può adoperare facilmente nella propria quotidianità per migliorare la qualità della propria vita. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao! Grazie a tutti!